Senatrice Stefani, il 13 settembre chiudono definitivamente molti tribunali in tutta Italia. La Cancellieri è venuta in aula a relazionare su quanto ha deciso insieme al Governo Letta. Qual è il commento della Lega Nord? C'era la possibilità di adottare dei decreti correttivi e questo non è stato fatto. Sono mesi in cui sono state fatte anche delle promesse, sono state coltivate anche da questa stessa maggioranza. E ora ci si è trovati quasi addirittura di arrivo quando alcuni tribunali ancora non erano pronti a fare questo passaggio. Quindi i problemi, gli svantaggi sono numerosissimi. Questa mattina il Ministro è venuto e ha confermato la sua volontà di portare avanti questa riforma. Pertanto queste promesse erano proprio tutte al vento. E io mi domando come mai tutti questi mesi che cosa ha fatto la maggioranza? Perché anche in Commissione Giustizia si è parlato moltissime volte di portare avanti il disegno di legge a volta la proroga delle entrate in vigore, proprio per permettere che venissero adottati questi correttivi. Ma questa proroga poi è stata votata solo a fine luglio, sempre su questa promessa che il Governo avrebbe messo il correttivo. Ma gli effetti strani e il procedimento strano e arcano che si è svolto fino ad ora si è visto anche nei primi giorni di agosto. Perché una volta che il disegno di legge sulla proroga è stato licenziato dalla Commissione, perché diventi legge deve passare in Aula? Allora mi domando come mai, quando sono stata a riunione di Capogruppo e si è deciso di cosa calendarizzare in Aula, come mai la maggioranza non ha insistito per far votare anche in Aula la proroga? E quindi ci siamo trovati adesso, purtroppo al 13 di settembre, con la chiusura dei tribunali. Ma non solo, con un decreto farsa, che è proprio veramente una ciliegina sulla torta, un decreto che in realtà per alcuni tribunali e solo per questi prevede una forma strana di proroga, proroga limitata soltanto alle cause civili del diritto del lavoro e soltanto per esaurire quelli che sono le cause pendenti. In buona sostanza, metà delle cause restano nei vecchi tribunali, metà delle cause vanno nei tribunali accorpanti, quindi creando un ulteriore disagio per moltissimi tribunali. È un decreto che il governo non doveva fare, è un decreto che è proprio un errore.